Vincenzo Larosa per il coordinamento del forum sociopolitico in qualità di organizzatore anche di questa marcia silenziosa per la legalità. Organizzatore con gli altri del coordinamento del forum, il vescovo Luigi Mansi e ancora altre associazioni che sin da subito si sono posti l'interrogativo sul cosa fare per smuovere le coscienze, per dare un segno di indignazione da parte della società civile. E allora l'idea di una marcia, una marcia che non è il punto di arrivo, non è il momento conclusivo di questa indignazione, ma è il momento di inizio. Ora è chiesto alle migliaia di persone che oggi sono per strada, alle associazioni, alla società civile, di recuperare gli spazi che sono dei cittadini, di mettersi in prima linea per la legalità, per la giustizia, al fianco delle forze dell'ordine, al fianco di coloro che rivestono un ruolo pubblico. Marco Leonetti del forum sociopolitico, una marcia che diventa anche una speranza? Una speranza perché c'è una marea di gente, un mare di giovani che si vuole riappropriare dei propri luoghi. Non vogliamo soltanto denunciare, ma dire che Andrea è nostra, Andrea ci sta a cuore e tutti d'ora in poi ci impegneremo per renderla una città migliore.